Sono passati 11 mesi dal tremendo terremoto dell'Aquila e praticamente nulla era stato fatto per quanto riguarda la rimozione delle macerie dalla zona rossa. Ora, in pochi giorni, c'è stata un'accelerazione. Il tutto grazie alla clamorosa manifestazione di domenica scorsa di 6.000 aquilani che con Cariole e Secchi hanno simbolicamente protestato contro l'inerzia delle istituzioni sul fronte delle macerie. Ieri pomeriggio a Roma il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi insieme al presidente della provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane e al sindaco Massimo Cialente ha incontrato il ministro per l'ambiente Stefania Prestigiacomo. Un incontro fruttuoso perché è stato messo a punto il piano per la rimozione delle macerie. Sì, questa è la prima volta che il ministero dell'ambiente viene coinvolto sulla materia delle macerie dell'Aquila. Abbiamo messo insieme un tavolo che mi sembra con spirito molto costruttivo, ha redatto un cronoprogramma che prevede una serie di azioni. Ci impegneremo a dare il supporto tecnico necessario al commissario Chiodi per attrezzare i siti che sono già stati individuati, tre siti. Adesso viene un altro che deve essere vagliato sul piano tecnico, un sito più grande. Credo che però si sia preso atto che la precedente procedura aveva delle oggettive difficoltà in capo ai comuni perché la normativa è una normativa complicata sia quella nazionale che quella regionale e quindi unanimemente si è deciso di rimettere questi poteri al commissario delegato che è il presidente della regione Chiodi che ha nella sua delega di commissario questi poteri per poter agire in via sostitutiva. Un'ulteriore responsabilità sì, ma è una questione che ovviamente cercheremo di affrontare con sollecitudine però bisogna che si sappia, che tutti sappiano che la questione delle macerie per la sua dimensione è una questione lunga. Anche questa è una questione lunga però naturalmente si inizierà finalmente il percorso in maniera efficiente mettendo una cosa in regime non episodica e quindi col tempo riusciremo a far fronte anche a questa dimensione straordinaria e eccezionale di macerie presenti. Sono stati individuati i siti dove portare le macerie e dentro il mese di aprile si dovrebbe cominciare ad operare in tal senso. In questi giorni le istituzioni lavoreranno sodo per accelerare le pratiche per i vari bandi di gara mentre i vigili del fuoco ed esercito saranno le forze che provvederanno in attesa dell'espletamento delle pratiche burocratiche a rimuovere le macerie. Da questa riunione fondamentalmente si esce con due punti. Il primo che a questo punto l'identificazione dei siti vanno all'unità commissariale, quindi al presidente Chiodi commissario e al sottoscritto vice commissario. La seconda è che c'è la possibilità di andare anche a identificare altre aree al di fuori quelle che prevede l'attuale normativa e soprattutto delle macro aree nelle quali sarà possibile temporaneamente fare lo stoccaggio, avviare la lavorazione e quindi poter cominciare ad accelerare. Ora si dovrà andare a tappe forzate anche perché le macerie da smaltire sono ingenti e per questo motivo che il sindaco dell'Aquila ha suggerito di inserire nei bandi di gara per la rimozione la clausola del trasporto notturno per poter concludere tutti i lavori entro pochi mesi.